buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale oggi lunedì iniziamo una nuova settimana e abbiamo un qualcosina da dirci che era pure molto buono prodotti bugiesi doc ora esulando dal discorso tarallini bugiesi che sono ben bellissimi buonissimi e qui mando un saluto a sony in quanto lui è bugiesa credo youtube sto vedendo tanto schifo ora non che la cosa fosse una novità però voglio dire ultimamente si sta assoprando ogni segno ed eccomi a voi allora dunque nella parte iniziale del vlog vi dicevo che il lunedì mattina quando ho tempo vado a recuperare tutti i contenuti persi nel weekend perché di consuetudine mi collego veramente molto poco raga e puntualmente manco a dirlo mi ritrovo sempre gente che ha litigato si è minacciata si è denunciata si è offesa si è malmenata no malmenata no ora non so se sbaglio però mi è sembrato di rilevare in alcuni canali un vero e proprio esodo esodo di iscritti di come si dice per quelli che fanno commenta sotto i canali di utenti che vanno a commentare sotto i canali è il lunedì prendiamola così canali che prima erano animati molto di più da commenti complimenti disturbamenti vari cioè voglio di una cosa del genere e ora invece se andate a guardarci praticamente c'è non dico il deserto ma siamo li lie e questo credo che vada a toccare più la nuova utenza che i vecchi utenti perché magari vecchi utenti li conoscono determinati soggetti e se ne stanno bene alla larga invece i nuovi utenti non conoscendo quei soggetti tendono ad abboccare più facilmente ma è comunque una questione a breve termine perché ne che ci si mette più di tanto a capire il personaggio e in tal caso ci si allontana poi ovvio ognuno nel canale che ha aperto può caricare i contenuti che meglio crede però come tu hai il diritto di caricare ciò che meglio credi io ho il diritto di scegliere se seguirti o meno ora io non verrò mai a farvi il discorso la richiesta di iscrivervi al mio canale perché quello non mi interessa però mi piace la partecipazione che mostrate nel nel confronto sotto a soprattutto determinati video dove tratto di youtube era abbastanza discussi io non ho un palinsesto ben definito però vado a trattare quelli che sono i fatti più tra virgolette chiacchierati al momento su youtube così che si possa avere un confronto come si suol dire a caldo sulla questione per non parlare del fatto che arriva qualcuno puntualmente e viene a dirti ah però tu stavi nel canale di stavi seguendo la live di o stavi a commentare sotto il canale di sì ci stavo ma saranno pure i cazzi miei dove voglio andare cioè ma che vi do l'impressione che ho bisogno della balia o di qualcuno che mi tiene per la mano e mi porta canale per canale è che stiamo a venezia ogni volta questa storia qua e ve l'ho sempre detto e lo ribadisco finché le cose non le vedete fare a me non potete venire a recriminare da me cose fatte dagli altri è più corretto andare alla fonte cioè se io commetto un omicidio non potete andare da un'altra persona a rivendicare il perché il per come io ho commesso sto omicidio andate direttamente dall'assassino quindi spero di non dover più ritornare su questo discorso perché quello che il mio pensiero in merito ve lo ho espresso e più volte a me non interessa il discorso di doversi creare un gruppo di cercare alleanze le trovo cose fatte da persone mediocre e soprattutto da persone che non sono capaci da sole di portare avanti neanche un discorso quindi hanno bisogno del seguito per sentirsi qualcuno ma sono anche problemi loro quindi chi se ne frega se la sbricheranno pure da soli bene detto questo io adesso vi saluto vi auguro come sempre buona continuazione di giornata e appuntamento al prossimo contenuto ciao a tutti da gossip